Ragazzi, come va? Io sono Fereniki E sono Steph, che si chiama Tower Unite E finalmente torniamo su Tower Unite Ovviamente in compagnia di Espy Jockey e Luca Esattamente, tra le tante sfiche che ci sono capitate la settimana scorsa Si è bruciata pure la registrazione di Tower Unite Quindi abbiamo chiesto il favore a Espy e a Luca di registrare nuovamente Di conseguenza certe cose le sapevamo già, diciamo che Le sorpresine che Steph aveva preparato super mega belle nell'episodio di Espy Purtroppo non erano più sorprese Però è stato lo stesso divertente perché abbiamo organizzato tanti giochi da fare dentro casa Davvero simpatici che vi piaceranno un sacco Buona visione Ciao ragazzi, un sacco di sorprese per voi Però... Anche noi ne abbiamo qualcuna per te Vi siete comprati di nuovi vestiti, vero? Sì, abbiamo speso un sacco di soldi, Steph Allora, visto che ho paura Vi faccio girare una alla volta perché io temo che ci saranno cose strane Allora, Luca inizia tu, dai, che mi sembri quello messo un po' meglio E insomma, allora, fiocchetto rosso Occhiali da sole e cappello da cowboy È bellissima Tutto condito da uno scheletro blu Va bene, dai Lo posso ancora accettare Espy lo lasciamo per ultimo, quindi fai i giratti tu Perché sono per ultimo? No, ma la parte più bella è questa Lo zenetto da cazzo È la corona È gli occhiali È la pistola Basta, per, torna al tuo posto Girati e non ti voglio più vedere per un po' Espy, dai, forza Espy il migliore Gira, ti espi su Dai, siete pronti? No, non sono pronto Dimmi che sei pronto Non lo so Dimmi che sei pronto Non lo sono, sono qua Sono bellissimo, vero? Sì, 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 sì Guarda Non sembra una papera Nel dizionario, nella definizione di bellezza, ci sei tu, Espy, senza dubbio Soprattutto con queste Mi date un uovo da covare, per favore No, no, no Non lo abbiamo, quello, però Ma c'è un yacht che sta passando, è bellissimo, è una sorta di discoteca Mamma mia Ma lo possiamo prendere? No, Fere, Fere Non ci provate Non andate a disturbare, quella gente è ricca, non andate Va bene, va bene, non andiamo Allora, ho un sacco di sorprese per voi Ok Come questa palla, Stef Fere, non mi rovinare tutto, ti prego Ok, dai, ti ascolto Dobbiamo fare una cosa alla volta Tornate dentro casa E non guardate troppo in giro Perché vi spoilerate un sacco di roba bellissima Quindi, tornate dentro casa E facciamo una sorpresa alla volta Prima di tutto, qua abbiamo fatto un po' di nuovo arredamento Abbiamo un po' di posate nuove Un pochettino di cose per la Coca-Cola Una birra Il cibo per Espy E un po' di pane secco per me E c'è una patata, Espy Guarda che bella Non si fida Non è convinto Le papere non mangiano le patate Va bene Espy, allora guarda questo Guarda che meraviglia Cosa? Guarda il frigo Dimmi che non siamo ricchi adesso, eh? Eh? Così buono Qui sotto ci sono degli scattoloni Perché c'è un work in progress Nel prossimo episodio vi farò una nuova sorpresa Che vi piacerà tantissimo Quindi per ora ci sono scattoloni Perché, diciamo Ok Sono iniziati i lavori Però Perfetto Al pieno di sopra Nella stanza di Espy e Luca C'è una sorpresa Cosa c'è? Per noi Allora Sì, 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 sì Allora Vedete quella Lampada Ok Sì Quella non è la sorpresa Andate nell'altra stanza Ma come? Oh mio Dio La pizza Abbiamo i quadri di pino Si può mangiare anche da così Si può mangiare Non mangiate la tutta Non mangiate la pizza verticale Non mangiate la tutta Lasciatene un pochettino Era La sorpresa per voi Quando avete fame Venite qua E date un morso Va bene? Abbiamo da fare uno spacchettamento Ok Abbiamo Piancia Una cosa bellissima Che cosa? Sono questi qua Sono dei gatti giganti I sacchi di gatto Che si possono aprire E che danno tantissimi oggetti Steffi Io ne ho aperto un sacco senza di te Davvero? Sì, sì Li conosco già Li conosce anche Luca Ne ha aperti un sacco Ok Perfetto Perfetto Solo tu non li avevi Volete fare così? Ok 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 Allora Guardate No dai apriamoli Vogliamo il gattino No 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 Non sono anche noi Non ho i sacchi di gatto Si è chiuso il bagno col gattino Adesso io me lo apro qua Aprite la porta Apri la porta Apri la porta Se continua te Sta aprendo da solo Guardate dove l'ho messa Ah che bello Vai aprila Lo apro Uno in ogni punto della casa Dobbiamo decidere dei punti stravaganti Tutto il tempo Per portare fortuna Vado? Vai Ok Primo gattino Eh sì Bellissimo Che bello Che bello Però vale mille Non è male Magari te lo rivendi Mille soldi non è male Ok prossimo gatto Dove lo vogliamo mettere? Qualche idea? Qualche idea? Qualche idea? Nel cammino Nel cammino Porco lì qua Ci sta Sincronizzati Ok Io lo uso per cucinare la roba Non è un forno E di faccia? Non l'ho destrato così No l'ho messo al contrario Ah è difficile Ok eccoci qua Pronti? 3 2 1 Un nuovo gattino Dai qualcosa di bello Un estrittore Un estrittore L'ironia Steph L'ironia Io non ci posso credere Vabbè Vabbè D'altronde per la sicurezza della casa Può essere utile Questo lo mettiamo Tanto che viviamo con espi Potrà essere molto utile Sì sono d'accordo Facciamo che lo mettiamo Per precauzione Allora Lo lasciamo qua in cucina Così è pronto per ogni evenienza Guardate È al contrario Ma perché ogni cosa Io la metto al contrario Non lo so Così? Ok Perfetto Molto meglio Prossimo gattino Avete qualche altra idea? Per favore Qualcosa che faccia sboccare i soldi In piscina Ok Sott'acqua? Sì sì Sott'acqua Ok Allora vado eh Dai qualcosa di bello Oh mio Dio Oh mio Dio Mi ha perso 8 ore in ritardo E quindi l'ho vista adesso Aspetta aspetta Una pianola volante Per impressionare No si può suonare Vai Ok Cioè si possono suonare davvero tutti i tasti del piano Però C'è qualche canzone? No No Dato che la piscina ha portato una fortuna incredibile Dato che quella vale 5000 Ne apriamo un'altra qua Dai qualcosa Sei benissimo Bene Bene Io quasi quasi Poteva andare meglio Questo Qualunque cosa sia vostro Vi piace? Ok Quindi di Espi e di Luca Vado L'avevo capito Assolutamente E ve lo dovete tenere per forza eh No vabbè Scegliete dove la volete Allora è giusto La prossima volta Dove la volete la patata? Nel vaso Ha ragione Ha ragione Mi piace Mi piace Sono d'accordo Allora aspettate Facciamo Guarda che è possibile Così Bellissimo Non sta niente in dritta Guardate che bella Ancora meglio Vado Non chiamare il cactus però Ti prego Ti prego Ti prego Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah una lavagna Ah è sotto le coperte Ok Aspettate Aspetta prendila Mettila magari Ma è normale che sta al contrario È una lavagnetta Sta a suonare Sta a suonare Non è male Bravo Luca Non è male Ha rovinato tutto all'improvviso Allora io praticamente rimbalzo qua A un certo punto la faccio rimbalzare Allora a quel punto L'altro sale nel trampolino Salta La prende al volo E fa canestro È super trickshot Vado? Vai Via Ok La presa Questa volta però L'hai presa tutta al volo Espi vieni prova tu Sei pronto? Ok vai Adatti faccio un 3 2 1 via 3 2 1 Via Vai Ok Dov'è? Dov'è la presa? Aspetta un attimo La presa La presa dai Aspetta Dov'è finita? Va bene Espi imbroglia pure Abbiamo capito Non sei simpatico Non è vero Guarda cosa ti faccio io Espi Guarda impara Cosa? Rimbalzo No Vai Tiro Perché non riesco a tirare? Fere devi mirare in alto Così Eh ci ho provato E poi la dove si prenderà il volo Inizia la partita da ora Prima era tutto riscaldamento Siete pronti? Vai Guarda la battuta Pim Uh l'ha presa Espi L'ho presa L'ho presa L'ho presa Vado Vai 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 Ok l'ho ripresa Tiro L'ho presa No 1 a 0 1 a 0 per noi Ok tocca a voi battere Espi Vai Fere No Espi Espi Stanno parando Espi Ho preso un pochino Perché stai parando No Ok l'hai presa Li battiamo lo stesso Terzo punto No Ancora 4 a 0 No Eh vabbè L'abbiamo preso al volo Espi Sì sì certo Tira 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 Guarda che balonico sono Mi sa che l'essere più alti Non gli sta dando una mano È più definizione De vantaggio Uh bravo Bravo Dai Dai Mamma mia Ma com'è che sei diventato così Posso giocare anche io Ma va bene Passa 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 Con la palla Lo schiacci Tranquillo sono forte Oddio Palla Palla Sono lentissimo Palla vieni qui Non riesco a nuotare Qualcuno mi dà una mano L'ho presa L'ho presa Eccomi Eccomi Vado Vado Vai Ok Sono fortissimo Però Io vi stavo ingannando Non sono diventato piccola a caso Dobbiamo fare un gioco Che gioco Voi tre Vi mettete qui nel muro E dovete contare Io mi nascondo Avete due minuti Per trovarmi E siete in tre a cercare E se non mi trovate Niente cena Come ho deciso ste regole Lo troviamo Quindi ho il vantaggio di essere piccolo Mi posso nascondere ovunque Preparatevi Ok Quindi guardate il muro Andate a guardare il muro Non imbrogliate Mi serve un po' di tempo Perché sono lentissimo ragazzi Quindi mi dovete dare Ah no posso volare Ok niente 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 Ci metto a poco Torno subito Ma è fattibile A lui lo lasciamo senza cena Se vinciamo Ok Dai mi sono nascosto Allora aspettate Aspettate un attimo State ancora lì Che vi ho il timer 3 2 1 Partite Ok Due minuti per trovarmi E siete in tre Aiuto Dato che sono piccolo Ovviamente I nascondirli Non so come la scorsa volta Che ce l'ha A disposizione Solo i cespugli Questa volta Ci sono tante possibilità in più Quindi Io vi consiglio Di guardare un po' ovunque Vi do un indizio Perché se no Non ce la potete fare In nessun modo Non sono dentro l'acqua Quindi non cercate Dentro l'acqua Perché non ci sono Ok Stavamo neanche cercando Vabbè io ve l'ho detto Per sicurezza Ok Forza forza Cosa volete perdere 3 contro 1 qui Ma però sei troppo Non è facile Io sto guardando dentro Ok ok Ho visto qualcuno di voi tre Ho visto qualcuno di voi tre Non troppo tempo fa E non ve lo dico Altrimenti Quella persona mi trova Io pensavo nelle scatole in cantina Ma non c'è niente Davvero? Peccato 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 Eh vi vedo un po' in difficoltà Eh ovviamente Sei minuscolo Non è che fai poi tanto Lo spiritoso Siete fuori o dentro Siete pur sempre tre No no È un indizio troppo grande Secondo me Allora Ok siamo a un minuto Un minuto e dieci secondi E vi dico che sono dentro casa E non fuori E adesso ho paura di essere trovato Aiuto Dov'è? Nel nostro vaso magari Vi state uccidendo Vi state uccidendo Io nel vaso No Peccato Ok dietro al letto è una buona tattica Ok È qua ragazzi No mi ha trovato Fere Dov'è? Guarda Ciao ragazzi Ho arrivato passato davanti Sapevo che il mobile era marrone Mi è caduto l'occhio su qualcosa di celeste Quindi Ma vengo anch'io Comunque Va fatto un nascondino da piccolini Perché è fantastico Quando finiamo di arredare tutta la casa Lo organizziamo E ci nascondiamo ovunque Sarà fantastico Però per adesso era Abbastanza facile trovarmi E vi veritate la cena purtroppo Io non sono felice di darvela Quindi Andate a mangiare le pizze Nella camera di Espie e Luca Dai Fai le braccia Le braccia Le braccia Le braccia Io mi prendo questa Dai una fetta Non le voglio Ce le mangiamo prima noi Ma le hanno finiti Maledetti Adesso si tengono il cartone unto Nei muri Ecco Così imparano Come ultima attività della giornata Giriamo un pochettino di ruota Perché mi sento fortunato Speriamo Allora L'obiettivo È trovare il grande piano Che vale un sacco di soldi Però ci sono altre cose Davvero carine Che si potrebbero trovare Vai Beh l'oro Eh sì L'oro non è male L'oro non è male Mi piacerebbe anche quello Allora Dai qualcosa Subito Una fortunata Una fortunata Dai 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 Eh beh Eh beh Siete gelosi? Eh Siete tutti gelosi No grazie Mi porti sfiga Non hai visto quanto sono fortunato Fammi vedere cosa trovo Dai Questo è bello Questo è bello Questo è bello Ho superato il nulla Un'altra Un'altra salvadanaio Un salvadanaio Eh vabbè Eh vabbè Ce l'abbiamo già Dai Espi Dai Espi Facci vedere Tanto il salvadanaio Vale mille Ah sì Allora Lo vendo Almeno lo vendo Allora Steph che stai facendo Espi Espi Ma no Nulla Un'altra chance Dattemi un'altra chance Va bene Non è vero Non è mia quella Fede Io non ho vinto un cactus Che Steph oggi è sfigato Quindi vai Hai vinto anche un cactus Eh Hai visto che bello No la patata no La patata no La patata no La cena di Espi È servita Perfetto Bene così Luca prova tu Ancora la tazza cera Io l'ho girata Insieme Insieme Fere e Luca Fere e Luca Sono in contemporanea Vediamo chi vince Dai Dai qualcosa di Almeno uno dei due E uno contro l'altro Chi becca di meglio Patata contro È un cactus Bravi Bravi Che bella sfida Vado un po' anch'io Aspettate anche io La patata Bene 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 Ragazzi Lasciateci Mi like E' questa la prima volta Che ho detto il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.